Per il convegno di oggi sulla proposta di direttiva copyright ultimo atto, vorrei proporvi una breve riflessione sul quadro giuridico applicabile alle piattaforme di condivisione video online alla luce delle riforme in corso che stanno riguardando la direttiva sui servizi di media audiovisivi e la direttiva copyright. Allo stato dell'arte il quadro d'insieme dei servizi audiovisivi online potrebbe lasciarsi suddividere in tre ambiti. Da una parte abbiamo i servizi di video richiesta come potrebbe essere Netflix che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Poi abbiamo le piattaforme di condivisione video propriamente dette come potrebbe essere YouTube che rientra nella definizione dei servizi di hosting e quindi direttiva sul commercio elettronico e quindi tutto il resto anche inclusive di contenuti audiovisivi come potrebbero essere i social media come Facebook nel momento in cui sono ospitati i contenuti video. Ora questa ripartizione si riduce ad una forma di suddivisione binaria nel momento in cui si va a dare un'occhiata al regime di responsabilità applicabile a questi soggetti. La direttiva sui servizi di media audiovisivi prevede come noto un sistema di responsabilità editoriale piena e sante per i servizi omonimi. La direttiva sul commercio elettronico prevede invece un regime di esenzione di responsabilità per i servizi che sono a vista soggettati, i servizi della società dell'informazione forniti dai cosiddetti ISP. Ora la riforma in corso della direttiva sui servizi media, mi riferisco all'ultimo testo del 6 giugno scorso, quindi cronaca recentissima, si tratta di questo sì davvero l'ultimo atto del negoziato che ha visto gli Stati membri e le tre istituzioni comunitarie impegnate ormai da diverso tempo, introduce nella definizione delle piattaforme di condivisione video un riferimento espresso all'esonero di responsabilità. In particolare ricordo che si tratta di piattaforme che assicurano la memorizzazione di contenuti generati dagli utenti e che sono organizzati con mezzi automatici o algoritmi. Questa esenzione di responsabilità viene leggermente attenuata in alcune fatti specie nel momento in cui, in particolare, si tratta di intervenire a tutela dei minori o per contrastare contenuti di incitamento all'odio, violenza o terrorismo. In questi casi le piattaforme di condivisione video sono associatate ad una forma di responsabilità esante attenuata che si sostanza sul piano dell'autoregolamentazione e con la predisposizione di una serie di sistemi per la rimozione rapida dei contenuti illeciti. Fin qui tutto apparentemente semplice. La situazione si complica un pochino di più nel momento in cui si dà un'occhiata alla proposta copyright che non è proprio l'ultimissimo atto ma abbiamo già a disposizione un testo importante che è il compromesso raggiunto dagli Stati membri nel Consiglio dell'Unione il 25 maggio scorso. Questo testo prevede l'inclusione della definizione di piattaforme di contenuti online. Questi contenuti possono essere di qualsiasi tipo, anche dunque audiovisivi. In particolare si tratta di un servizio della società dell'informazione che consiste nella memorizzazione e nel dare accesso al pubblico ad una grande quantità di opere che sono organizzate dal fornitore del servizio stesso allo scopo di trarne profitto. Fin qui tutto semplice. Quello che complica le cose ulteriormente è il venir meno dell'esenzione di responsabilità previsto dalla direttiva sul corneccio elettronico qualora vengono messa a disposizione opere protette senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti. Perché si tratta di un elemento di complicazione? Perché le piattaforme di condivisione video sono potenzialmente soggette a rientrare nel campo di applicazione di entrambi i quadri giuridici. Costituiscono piattaforme di condivisione video online ai sensi della direttiva SMAD riformata e sono qui soggette a forme di responsabilità attenuata nel caso di contenuti illeciti mentre sono sempre queste piattaforme di condivisione video soggette alla direttiva copera nel momento in cui l'illecito è costituito dalla violazione del diritto d'autore e in particolare i dubbi interpretativi si potrebbero porre nel momento in cui non si è chiaro ad esempio cosa sia una grande quantità di opere o cosa sia l'attività di organizzazione nel momento in cui ad esempio vengono utilizzati mezzi semi-automatici dove ci possa essere quindi una forma di attività editoriale nella organizzazione dei contenuti oppure ancora nel momento in cui ci si ponga il dubbio di come identificare i motivi di profitto che hanno spinto i fornitori di questi tipi di servizi a mettere a disposizione queste opere. Ora, se tutto questo vi ha stuzzicato qualche curiosità vi suggerisco di dare un'occhiata all'ultimo rapporto dell'Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo dove abbiamo un numero monografico dedicato al regime giuridico applicabile alle piattaforme di condivisione video vi auguro perciò buona lettura e buon lavoro. Grazie